La Regione Marche è la prima in Italia a dotarsi di una legge con le misure urgenti per il sostegno delle attività produttive e i lavoratori autonomi a seguito dell'emergenza Covid-19. Questa mattina infatti la firma del Presidente Luca Ceriscioli che ha affermato «è molto importante in un momento come questo l'impegno delle istituzioni per far ripartire l'economia del nostro territorio. Abbiamo dato un segno concreto approvando in pochi giorni e rindendo subito esecutiva una legge che mette in campo 14,2 milioni per dare liquidità alle imprese. Un piccolo segno rispetto a tutto quello che servirà a mettere in campo, ma essere riusciti a farlo prima di tutti gli altri, prima delle imminenti festività pasquali, assume per noi un valore simbolico straordinario. Si istituisce così un fondo di emergenza per le imprese e i lavoratori autonomi, basato sugli incentivi al sistema del credito, che saranno disponibili da martedì 14 aprile presso i confidi. 11,7 milioni per prestiti a tasso agevolato e 2,5 milioni per contributi a fondo perduto, per abbattere il costo degli interessi e delle garanzie per l'accesso ai finanziamenti. La legge prevede un allargamento del credito, da 25 mila a 40 mila euro senza vincolo percentuale di fatturato per le imprese, estensibile a 50 mila euro per le imprese che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività e fino a 5 mila euro per i lavoratori autonomi. La durata prevista del prestito è di 72 mesi con 24 mesi di preammortamento. Destinatari delle misure sono le imprese e i lavoratori autonomi. Al fine dell'accesso ai benefici, gli operatori economici sono coloro che hanno subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno sede operativa nel territorio e sono operativi alla data del 23 febbraio 2020.